Ciao a tutti. Un comune pensiero sostiene che un eccellente attore comico sia in grado di recitare anche Il Tragico e che non sia vero o il contrario. Questo ha assunto nella storia del teatro un valore fondamentalmente proverbiale. C'è del vero, c'è del verissimo, naturalmente c'è anche un'estremizzazione, ma per indagare su questa questione mi piace oggi parlarvi di un attore che mi è non caro, carissimo, ed è Eros Pagni, quello che molti io fra questi considerano il più grande attore italiano vivente. Io ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare con Eros per oltre 40 anni, mi ha svezzato che ero un ragazzino, sì, lui ha qualche anno più di me, accidenti, si avvicina a un'età mitica, senza svelare quale. E poi anno dopo anno abbiamo fatto una serie di spettacoli che ci hanno dato prima di tutto la grande gioia di lavorare insieme e poi la soddisfazione di avere anche quello che in teatro non fa mai male, un certo numero di successi significativi. Allora, Eros è un attore tragico, è un attore comico, è tutte e due le cose. Certamente il suo strepitoso e istintivo talento lo porta ad avere delle doti comiche notevolissime che gli vengono anche dagli attori con cui ha lavorato e a cui magari non ha voluto bene, ma che hanno segnato in modo forte la sua carriera. Penso per esempio Alberto Lionello che lui umanamente detestava, ma di cui ammirava il grande talento, o Alina Volonghi con cui aveva un rapporto, un rapporto diciamo più civile, anche se non amorevole, che sono state per lui dei grandi incontri, dei grandi appuntamenti. Un maestro di quelli che nel comico si chiamano i tempi, una straordinaria capacità di annusare il pubblico, di sentire dove si può prendere una risata, di scandagliare l'animo umano attraverso il senso del ridicolo, della ridicola insensatezza che siamo, eccetera, eccetera. Naturalmente quando un attore comico ha, o un attore, ha queste straordinarie qualità, rischia continuamente di fare una cosa, cioè di adagiarsi su ciò che funziona, di fare o ripetere meccanismi, soprattutto nei tempi comici, e di privilegiare la meccanica comica rispetto all'animo umano del personaggio. E questo è un errore o un peccato in cui Eros, come tanti altri, è caduto tante volte nella vita e una delle sfide che io come regista o compagno di lavoro ho cercato spesso di lanciargli che è stata quella di persuaderlo che per fare ridere lo si può ottenere anche restando rigorosamente dentro una situazione emotiva anche ai limiti del tragico. Per esempio, vedevo di recente un'interpretazione strepitosa di un attore strepitoso come Peppino De Filippo, non è vero ma ci credo, questo padre borghese che ha paura degli iettatori, il titolo dice tutto, Ebbè, l'interpretazione di Peppino è favolosa perché non smette mai di stare dentro l'emozione, dentro la verità del personaggio, non si sbilancia mai verso l'esecuzione di puri meccanismi comici. Ma torniamo a Eros, e è un episodio che riguarda Eros, che mi colpì moltissimo. Stavamo allestendo il Don Giovanni di Molière con Gabriele Labia, che faceva Don Giovanni, ed Eros che faceva Sganarello. Il primo incontro in palcoscenico fra i due, poi ci sarà dopo un nemico del popolo veramente favoloso, non dovrei dirlo io perché l'ho diretto, ma insomma in entrambi gli spettacoli c'è stato questo scontro fra titani, io dicevo scherzosamente che non mi sembrava di dirigere degli attori, ma di essere un domatore di tigri, tanta era l'energia, l'eleganza che scatturivano da queste creature eccezionali, da questi due attori eccezionali. Allora, invitando continuamente Eros a ragionare su Sganarello, a questo servo stupefatto davanti alla blasfemia scandalosa e provocatoria del suo padrone, e Don Giovanni si può leggere come una lunga e straziata educazione sentimentale di Sganarello davanti all'incomprensibilità di un'idea così radicalmente diversa da quelle che gli hanno insegnato in chiesa, attraverso l'esempio e la prassi del suo padrone. Ebbene, cercavo di invitare Eros a restare dentro questa dimensione di stupore, di incomprensione, ma anche di fascinazione verso questo Don Giovanni. Eccetera, questo naturalmente non basta dirlo, poi bisogna vedere dettaglio per dettaglio. Una sera, dopo un bellissimo successo con il pubblico, vado a trovare gli attori ed Eros mi racconta una cosa bellissima, bellissima, lui magari non se la ricorda neanche. Mi dice, sai Marco, mi sta succedendo una cosa pazzesca. Dico che cosa? Dice, io non sto facendo quelle scene, quella scena in particolare, so che arriverà l'effetto fra poco, che fra due battute la mia battuta provocherà un effetto, i francesi dicono una chute, vuole dire una risata, una grossa risata, che può anche esplodere in un applauso. Beh, io sento che sta per arrivare quel momento a cui in passato davo totalmente fede e mi buttavo dentro una meccanica comica esecutiva. Beh, io come sento arrivare? Che sta per arrivare? Freno, mi sento di frenare, mi sento di frenare, di frenare. Dico no, no, non voglio utilizzare quella meccanica di tempi, non voglio utilizzare quella meccanica comica tradizionale, voglio fare di tutto per non fare ridere. E sono stupefatto da me stesso, perché dicono... E poi arriva la battuta e nonostante la mia frenata e il mio totale affondare dentro la dimensione umana ed emotiva a scapito del comico viene una risata lo stesso e forse ancora più forte. Dice io sono stupefatto. Sono stupefatto. Beh, questo è molto bello. Innanzitutto ci dice come un attore anche dopo 50 anni di teatro se è un vero artista non smette mai di cercare, non smette mai di stupirsi, non smette mai di essere scontento di sé. E poi ci dice come ecco il comico e il tragico sono due facce della stessa moneta e il momento in cui il comico e il tragico funzionano bene o perfettamente quando tiri la moneta sale in aria e la battuta scende la moneta cade ma anziché posarsi da una parte il tragico o dall'altra il comico continua a vibrare leggermente sul tavolo o per terra e così tocca e ipnotizza le anime di tutti gli spettatori a cominciare dall'attore che le ha pronunciato dall'attore che ha tirato la moneta e che quella sera è riuscito a farla stare in bilico fra le due facce della vita il tragico e il comico. Grande, grande, grande Ero Spagni gli siamo tutti profondamente grati. Ciao a tutti.